Posso chiedere innanzitutto il nome e cognome? Giancarlo Cerutti Coltiva qui nella zona? Io non coltivo, io sono un distributore di mezzi tecnici per l'agricoltura e distribuisco i prodotti BASF Ecco, allora le chiedo che l'agricoltore che caratteristiche ha? Una caratteristica negativa e una positiva? Ci sarà? Tanto non ce ne sono tanti qua in giro, se ci sentono ci corrona dietro? Di positivo c'è tutta una storia di positività negli agricoltori sono gente genuina, attaccata alla terra, che credono nel loro mestiere e hanno un futuro, hanno un futuro che come si diceva prima nella riunione la terra dovrà sfamare tutto il nostro pianeta e sono attori importanti nel nostro futuro sviluppo sono gente che conoscono bene il loro lavoro sono molto attaccati e credono in ciò che fanno devono essere supportati da tutta una serie di elementi, di strutture che devono essere proprie e che anche la politica deve sapere e di negatività negatività ce ne sono poche a dire il vero perché diciamo che essendo gente genuina essendo gente attaccata alla terra c'è un rispetto, c'è un rispetto anche nei rapporti tra distributore e chi coltiva la terra e quindi possiamo dire pochissime cose sul carattere negativo e gente con la quale vale la pena operare Senta, io ho conosciuto qui uno dei tanti agricoltori presenti Osvaldo, oltre settantenne insomma da quando aveva cinque anni fa questo lavoro C'è una difficoltà nell'educarli nel senso tecnico all'utilizzo di un certo tipo di prodotti cioè l'agricoltore che affonda le sue radici lontano nel tempo che tipo di approccio ha? Diciamo che ci sono due generazioni in questo momento c'è la parte, chiamiamola vecchia che è un po' restia ha i nuovi elementi tecnici nuovi elementi anche mediatici e c'è la parte giovane che è molto recettiva quindi che utilizza gli strumenti informatici che oramai viene informata sull'iPad, sull'iPod, compagnia bella e quindi è molto sensibile e recepisce in maniera molto positiva tutte le informazioni che vengono propinate da parte delle ditte e chi opera in questo settore Con quale Giancarlo ti trovi meglio a lavorare? Con l'anziano o con il laureato in agraria? Con tutti e due non c'è un positivo e un negativo la parte vecchia, chiamiamola così si fida di quello che uno gli dice e quanto gli viene proposto la parte giovane confronta e poi chiaramente sceglie però diciamo che sono due approcci diversi Grazie, buon lavoro Prego BISF We create chemistry BISF